Sono 18 i consiglieri comunali di Teramo di opposizione anche dell'oramai di sciolta maggioranza che a mezzogiorno hanno firmato contestualmente le dimissioni, producendo a far sciogliere con effetto immediato l'assise civica. Ora il prefetto Patrizzi nominerà un commissario per reggere il comune fino alla prossima primavera ed innanzitutto ad approvare il bilancio per il quale finora l'oramai ex sindaco Maurizio Brucchi non ha avuto i numeri. L'Olimpo è caduto, se mi consentite un passaggio cinematografico era ora, non era più possibile lasciare la città in ostaggio di questa amministrazione, anche le polemiche di oggi confermano che c'era la necessità di un rinnovamento e quindi credo che il senso di responsabilità di tutti abbia prevalso. Noi dell'opposizione ovviamente eravamo pronti in qualsiasi momento, abbiamo trovato sponda in un nutrito gruppo dell'opposizione, adesso tutti dovremo riflettere sul futuro di questa città anche perché c'è da dire chiaramente che qui non c'è nessuna vittoria. Abbiamo perso tutti, ha perso Teramo, è una sconfitta per l'opposizione, una sconfitta per la maggioranza, una sconfitta per il sindaco, dovranno essere i cittadini adesso a decidere chi votare per le prossime elezioni, a chi dare la guida di questa città che dovrà prendere un impegno importante, un impegno serio perché è una città ormai indebitata, è una città che non ha progetti per il futuro, è una città da ricostruire da zero. È anche una città ricca di valori, ricca di storia, ricca di arte, ricca di caratteristiche che possono portare ad un rinascimento, ad un vero rinascimento in pochissimo tempo. Occorre però gente valida, gente capace e io spero soprattutto che i giovani siano disponibili a sostituire questa politica che ormai è rancida sotto tutti i punti di vista. Una brutta storia di questa vagina politica è la città di Teramo. Io e il consigliere Pugli insieme alla nostra licia civica sono due anni che diciamo che qualcosa non va. Abbiamo rinunciato a posti importanti come assessore, come presidente della Teramo perché abbiamo detto no, no, non gestiamo a questa situazione come si governa. La coppa è di tutti chiaramente, ma il maggior porto forse il sindaco doveva fare il sindaco da un po' di tempo. Non è riuscito a fare il sindaco forse perché qualcuno lo ha così, lo ha un po' tirato per crescere in pace, troppe in pace, troppa situazione strana. La città di Teramo ha subito questo trauma politico, meglio il commissario. Grazie.